Il momento più importante della stagione è arrivato quello in cui bisogna uscire gli attributi e dimostrare di essere una vera squadra e che tutta la stagione vissuta non è stata un fuoco di paia Benvenuti in questo nuovo video di Femme 2022 Playoff Taranto contro Carrarese Andiamo a vedere anche dove si sono posizionati i nostri avversari durante il campionato Partiamo subito perché c'è tanto da vedere, tanto da vivere, soprattutto a livello emozionale oggi Allora, la Carrarese, siamo in casa, andiamo a sfidare in casa L'allenatore è il grande Totò di Natale Poi il capitano Andrea Luci, va bene, comunque di Natale, bene, bene Allora, prima squadra, Serie C, andiamo a vedere dove si erano qualificati, dove si erano posizionati soprattutto Dunque, ottavo posto, 53 punti Noi ne abbiamo fatti più di 80, quindi siamo arrivati al quarto posto Ora, scontro diretto Allora, l'Apriola è infortunato, però possiamo contare su Diabia, anche se non è informissima Però sono sicuro che potrà dire la sua E lasciamo il mondo come con Prelec, Giovinco, Saraniti qua nelle due fasce Ferrara, benassati, Silve Tomassini Vediamo cosa succede, ragazzi L'Apriola giustamente mi dice che è squalificato, possiamo mettere Granata Ok, grazie, conferma la formazione Non è molto in forma, è vero, magari gli fermo a fare 50-60 minuti e poi andarlo a sostituire Dai, ragazzi, forza, è il momento Dai Dai, allunghiamo la nostra striscia positiva Saraniti si è gasato Meno male, almeno lui Dai Il primo tiro è per loro Il Taranto adesso pareggia il conto dei tiri Ok, andiamo subito a domandare di più Quattro tiri per il Taranto, ma c'è la Carrarese adesso davanti con Galigani Allontana Franchino Dauria va a recuperare Rota Tunjov Per Cerci Dumbia, il tiro, però è fuori gioco, mi sa E infatti, e infatti, abbiamo visto bene Ok Beh, dai, ragazzi Chiediamo concentrazione adesso, però, eh Forza Mentre il Siena Mazza, oh, Paloschi Beh, c'è da dire che le altre squadre erano Giotori veramente importanti Dai, continuate così Dai, ragazzi, dai Forza, però Incoraggia, dai Otto tiri abbiamo fatto Uno in porta soltanto Possiamo farcela Tre tiri in porta Niente, non succede la mazza Perfetto, ok Allora, sessantasesimo Io direi, possiamo provare Marsili per Franchino Poi, DAB Mettiamo Ghisleni Ecco, non lo sforziamo troppo Eh, 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 ehm Possiamo provare Possiamo Sant'Arpia per Prelec Vai Incitiamoli Che poi non ho capito Tra incitare e incoraggiare Cosa Quale potrebbe essere la differenza Ma vabbè Jovinco in mezzo Sant'Arpia No, sulla linea No, attenzione Può partire il contropiede D'Agarresa addirittura Galligani Daori Ebbene, non male Thomas Si è andato a chiudere 87, 88, 89 90, 90, 92 93 Fine partita Ma siamo passati noi Mi sa, è giusto? Mani sui fianchi Siamo felici del risultato Credo che siamo passati O Sì Immagino di sì Siamo passati Va bene Bastava anche il paraggio Infatti mi ricordavo che Comunque Poteva Potevamo passare anche col pareggio Grazie al miglior piazzamento Per l'appunto Va benissimo Va benissimo E il primo Ce lo siamo tolto dalle balle Ora andiamo a vedere il secondo Vedremo due partite Anche perché è partita secca Però Vediamo quando sarà il terzo turno Perché nel caso in cui Andiamo anche Ah Oggi sarà il sorteggio Ok, perfetto Allora, giocheremo contro il Padova Domenica 8 maggio Quindi non abbiamo il tempo Per organizzare Nessun amichevole Allora, Massimo Pavanello Vediamo il Padova Dove si è andato a Qualificare qua A posizionare in campionato Girone A Il Padova Il Padova Beh, quarti Però quarti 65 punti Vedete? Nel girone A ragazzi Saremmo stati straprimi Qualora avessimo giocato l'inno Centrocampisti fuori forma Però Però il resto della squadra È pronto Conferma la formazione Vai Oh Dai ragazzi Anche un pareggio Eh Anche un pareggio Anche un pareggio Si fianchi Bravo Dobbiamo dimostrare subito Al Padova Quali sono le nostre intenzioni Ovvero quello di Dominare Il match L'incontro La partita Il game Subito il primo tiro È proprio per il Padova 2 a 2 Adesso Il conto dei tiri Ma nulla Ancora di importante Se visto Domandiamo subito di più Tre tiri Il primo tiro in porta È per il Padova Che sembra più In canna Per il momento Con il 62% Possesso palla Il Foggia Oh ma quelli vincono sempre Non conoscono sconfitta Questi Vabbè Comunque Chirico La mette in mezzo Di Gennaro Menomale Fuori Chiedi concentrazione Ragazzi Non lo so Non ci vedo benissimo Per adesso Forse stiamo soffrendo Anche un po' La trasferta 9 tiri 2 In porta per il Padova Ancora niente Mani sui fianchi Dai Forza Motiviamoli C'è un po' Deludente Quello che abbiamo visto Ma possiamo riprenderci Dai Dai Domande di più Dai Dai Su Tre tiri in porta Vabbè Niente Ok Allora Cambiamo Italeng al centro Dell'attacco Per Saraniti Poi Franchino Che è anche ammonito Assolutamente Leviamolo Tomassini Purtroppo Deve restare Pacilli Qui per Prelec Giovinco Anche Non sta giocando Benissimo Mettiamolo Per Sant'Arpia Se questi Gambi Vanno a dare Un po' La scossa Alla Alla squadra Non mi pare Non mi pare Pausa Perché ci andiamo a fare L'ultimo cambio Mettiamo Cannavaro Proprio Per Labriola Vai Quando mancano Cinque minuti Alla fine Della partita Più recupero E un'altra palla buttata Che arriva sui piedi Di Donnarumma Che la rispazza Lunghissima Si se addirittura La prende Vabbè va Assist di Donnarumma Vabbè Vabbè 1-0 Ce la possiamo giocare Assolutamente In casa nostra Qualora finisse 1-0 Perché c'è sempre Tempo per pareggiare O per prendere un altro Orghe Silva Per D-A-B Subito per Pacilli Bello fresco Appena entrato Ancora per Marsilli Orghe Silva Ancora Benassai Cannavaro D-A-B Il filtrante No Cannavaro Italeng Per Pacilli E c'è Pacilli E dai Sì L'avevo detto Che sarebbe cambiato Qualcosa Con questi cambi Dai Dai 1-1 E palla al centro Dai Gol fondamentale Questo Primo tiro in porta Beh Un po' rubata Possiamo dirlo Che è stato un po' rubacchiato Questo pareggio Comunque Puntino in porta Un Gol E il Taranto Intanto L'1-1 Se lo porta A casa Ragazzi Ora Restiamo così Un po' sospesi Nell'aere Perché il ritorno Lo vedremo nel prossimo episodio Contro il Pado Che poi arriva Tra tre giorni Quindi Non abbiamo neanche il tempo Di riposare Detto questo Ragazzi Fatemi sapere la vostra Qua sotto nei commenti Io che vi faccio vedere Nulla Nulla Siamo 1-1 Quindi Niente Possiamo Anzi un attimo Possiamo fare Un riunione di spogliatoio Oh benissimo Penso che possiamo andare da fuori Abbiamo giocato molto bene Continuate così Bravi Oh bene 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 Dai Dai che Aumentiamo anche il morale Perfetto Alla 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 vigilia Quasi Della partita importantissima Di ritorno contro il Padova 1-1 Quindi ci basterà forse Anche pareggiare 0-0 Per poter passare Comunque Fatemi sapere la vostra Qua sotto nei commenti Un bel like Una visione e iscrizione Per supportare la serie Il canale Io ragazzi Come sempre Vi voglio bene Vi aspetto domani Con dei nuovi Fantastici video Ciao